Buongiorno a tutti dal Milanista Pazzo. Oggi siamo qui a dare il commento del derby di sera tra Milan e Inter. Prima di passare al commento vi faccio vedere prima il gol del match e poi commenteremo questo derby. Ecco qui il primo gol di Suso che ha aperto la partita su luna a giro. Un bellissimo tiro a giro. Eccolo qui, bel gol. E qui c'è il gol del pari del 1-1 di Candeva. Un altro bellissimo gol per Candeva. Dopo questo di Suso arriva questo bellissimo gol di Candeva. E qui arriva il gol del 2-1 di Suso. Ecco il grandissimo gol di Suso. Il secondo gol per lui. la doppietta nel derby. E qui arriva il pareggio nei secondi finali del derby. Il gol di Perisic. Qua finisce 2-2 il derby. Dopo avervi fatto vedere i gol del match, ecco qui il mio commento sul derby. Un primo tempo che in Milan si è sofferto molto, soprattutto i primi 30 minuti, si è sofferto molto poi dopo gli ultimi 10 minuti, massimo un quarto d'ora. Dalla fine del primo tempo in Milan cominciava a creare qualche azione da gol pericolosa, ma non restava molto pericolosa come è stata l'Inter precedentemente. Poi verso il 44-43 in Milan con un lancio di Donnarumma trova l'azione che porta al gol del lungo giro, un gol realizzato da Suso, un bellissimo gol per me. Poi incomincia il secondo tempo. Partire incomincia equilibrata, anche se viene un pochino più pericolosa rispetto al primo tempo. Durante il secondo tempo il Milan riesce a trovare, anzi prima, il pareggio dell'Inter con Candreva, un bellissimo erro-goal pure di Candreva. Poi il Milan non si fa prendere dal panico del pareggio dell'Inter e cerca di essere più pericoloso. Infatti poi trova un altro gol da Suso, il gol del 2-1. Poi la partita è sempre equilibrata, poi gli ultimi minuti l'Inter era più pericolosa di nuovo e quando sembra la partita stava per finire sul 2-1 su un calcio d'angolo per ricevere il pallone tra i piedi e approfitta per poi giare la partita. Io mancavo se non 10 secondi. Poi il Milan riesce a trovare un'altra situazione con Pasalik che tira la pallovaccia fuori. Il derby finisce qui, finisce 2-2. Un derby che mi è piaciuto rispetto agli ultimi derby, un bel derby con molte occasioni. Milan è un pericoloso, l'Inter ha pure. Un derby che mi ha potuto vincere, potuto vincere, è stata meno pericolosa e meno aggressiva negli ultimi minuti. Ha subito il gol del pareggio. Un gol del pareggio che si può evitare. Qui stiamo andando a parlare di un risettore diverso. Dunque il video finisce qui, se vi è piaciuto mettete un like, commentate, condividete, iscrivetevi al canale, seguimmi sulle mie page a Facebook, pure su Instagram ci sono i miei Instagram, su Telegram, metto tutti i link qui sotto. Alla prossima video. Ciao a tutti.